Ma probabilmente neanche i forestali in Calabria sono esperti di foreste, quindi è una lacuna che accomuna... Io vi ringrazio e conto, chiudo solo con questo, che sia l'inizio di un percorso, nel senso che mi hanno chiamato tante persone da Verona, da Cuneo, da Bologna. Pensare male non fa mai male e quindi se riusciamo a rimettere in moto un pensiero e a controinformare sicuramente ce la facciamo. Il professore poi si ferma fino alle 11 a firmare i libri lì fuori, ve lo lasciamo in ostaggio evidentemente. Grazie a tutti e da domani in battaglia. Andiamo qui? Andiamo qui a farli firmare? Ma non c'è un po' più comodo? Abbiamo il tanteo giusto.